Nei momenti più impegnativi, quando è indispensabile la massima concentrazione, bisogna essere anche in piena forma. Per questo è importante alimentarsi bene. Nutella è con te, con tutta l'energia del latte e delle nocciole, con tutta la sua bontà. Pane e Nutella, energia per fare e per pensare. Anche su Nutella trovi punti per conquistare i meravigliosi regali di Vinci Campione.